Io sono l'imperatore Quindi non possiamo fare altro che farlo ragazzi E' ineluttabile E' inevitabile Le nostre motorizzate stanno sfondando insieme alle nostre Panzer Division Le nostre vediamo come le abbiamo chiamate Waffen SS E SS Panzer Division Molto bene Allora ci stanno invadendo navalmente da qualche parte Però hanno rinunciato Hanno rinunciato Vediamo se la nostra marina sta affondando Ok ho visto delle divisioni italiane qui in Finlandia Molto molto bene Attenzione che la nostra invasione della Polonia E' riuscita Riuscita abbastanza però Adesso ci stiamo un po' restando Ma neanche tantissimo Il nostro battle plan caricato ragazzi Allora è il momento di fare dei pocket Quindi concentriamo il nostro armamento Qui ci vuole un'atomica per spezzare Le difese polacche Mentre arrivano queste divisioni Panzer Ok stanno arrivando Dov'è la bomba atomica Eccola qui Proprio un fallout nucleare continuo In Polonia Ragazzi vedo che per avanzare abbiamo bisogno di tante bombe atomiche Quindi direi di fare qualche altro Reattore nucleare Che non c'è mai fine Le bombe atomiche che ci servono per questa guerra Continuiamo a portare avanti la nostra invasione Ok qui stiamo attaccando Qui pure abbiamo sfondato ragazzi un pocket di questo tipo Potrebbe essere una buona idea per riuscire a vincere Intanto questa motorizzata la mandiamo qui Andiamo a prendere questi porti ragazzi Bene Sembra che mai dire Ha organizzato bene questa avanzata raffazzonata Ci sono gli statunitensi che ci stanno aiutando Quindi facciamo partire pure questo attacco In Bohemia ragazzi Dai fatelo partire Bene Allora in Ungheria ragazzi ci hanno pocketizzato Quindi bisogna subito Dov'è che subiamo attrito? E che cazzo Subiamo tantissimo attrito Abbiamo bisogno della compagnia logistica Quindi Per metterci un po' a posto Vediamo Queste ci sono ben sei divisioni che vorrei andare a salvare Quindi atomica qui E concentrazione di attacco In questa zona Possibilmente contraattacco da questa Per liberare queste sei divisioni Che si sono fatte saccare In una maniera ridicola Eccola qui l'atomica che dovrebbe arrivare Pronta pronta Dov'è? Non la vedo Eccola qui Concentriamo il fuoco Su questa zona che dobbiamo liberare Quelle sei divisioni Intanto la nostra avanzata continua Il processo di ingabbiamento Di accerchiamento Di truppe polacche Sta venendo piuttosto con successo Qui c'è una divisione panzer Usiamo la nostra ultima atomica Per sbloccare la situazione In questo teatro Eccola qui Perché almeno avremo la possibilità di saccarle Spondiamo da questo lato Ok Perfetto ragazzi L'inversione della Polonia Sta avvenendo con successo Abbiamo avuto una spinta propulsiva Assurda Dobbiamo arrivare a Varsavia Ricordo però Per farli capitolare Una volta capitolati i sovietici Verrà meno l'intera frontiera L'intero perimetro difensivo Sovietico Intanto qui ci stanno attaccando Non siamo riusciti a liberare Non siamo riusciti a liberare le divisioni Questo anche perché Maledizione Cos'è tutta sta roba? Cerchiamo di non rifiutare il land lease Che le land lease le accettiamo come non mai Grazie Ci servivano 272 convoi Che stiamo producendo Comunque Vi dico la verità Qui cos'è che manca? La produzione Jet Strategic Bomber Ho capito Ah già Convoi non ne posso chiamare Perché li sto usando per il land lease Per il momento usiamoli lì Ragazzi Allora Come sta andando qui? Non vorrei perdere queste 6 divisioni Minchia Si sono ammassati i russi in questa zona E ci stanno facendo malissimo Queste infrastrutture Vediamo come si è ammesse a livello di supply Ah no Però i supply qui mancano Non tanto lì Perché si è ammessi così male? Organizzazione bassissima Ok Dai che qui li stiamo Attacchiamo qui Concentriamo il fuoco Dai che li stiamo Accerchiando Allora Attacchiamo da questo lato Così ragazzi Dobbiamo fare questo accerchiamento a Poznan Abbiamo già preso Poznan Quindi Le nostre Panzer Division sono indomabili Beh insomma Un attimo Un attimo Ah no Queste stanno avanzando però Fermati Voi entrate lì dentro Ok Qui abbiamo resistito Eh però forse i colpi di stato ragazzi Potrebbero anche servire Ad esempio Ah potrei creare la mia fazione Chi ci ha pensato? Posso già farla? Tanto a quanto pare La nato non mi vuole Nella sua Quindi possiamo fare l'asse E facciamo l'asse Facciamo l'asse Allora Vediamo Ehm Com'è che si fa? Ah Devo farlo con una nazione fascista però Eh di nazioni fascista Mi pare che ci sia solo il Portogallo Create Faction Eccola qui Asse Che per il momento è un asse Berlino-Lisbona Mi raccomando Portogallo Portami tutte le tue truppe Non entra Portogallo Inutile Portogallo Eh intanto qui in Spagna Il colpo di stato Verrà l'11 settembre del 59 Minchia tra un anno Tantissimo Siamo già belli che morti Per allora Altri fascisti in giro Non ce ne sono Potremmo fare Ah no è entrato Dai Grazie Portogallo Meno male Meno male che ci aiutano i portoghesi L'asse Berlino-Lisbona Ma io vorrei L'asse Roma-Berlino Dai Dai un po' di fascismo Non c'è in questa zona Boost Party Popularity Ecco qui Nella Nato Cerchiamo di boostare Un po' di fascismo Per l'Italia Rivoglio l'Italia Al mio fianco Stata così tanto utile Nella guerra Vabbè Allora lì L'abbiamo prese Ok Bene Il nostro fronte Sta andando molto bene Intanto questa motorizzata Potrebbe andare a prendere Questa città Che così Dovremmo essere in grado Di accedere alla Prussia Ragazzi La nostra Prussia Che c'è stata Sottratta Dopo l'infame Trattato Di pace Tanto gli alleati Ci stanno aiutando Bombardando Gdansk Eh Però Purtroppo il bombardamento nucleare Non è stato ben Temporeggiato Eh Le truppe statunitensi Vorrei che continuassero ad affluire Perché Ne abbiamo Tantissimo bisogno Eh Ci sono altre nazioni Che mi possono mandare supporti Ad esempio La Norvegia Offer military access Ah ho visto che intanto Gli statunitensi Si stanno divertendo tantissimo A bombardare I russi Vedete che hanno bombardato Pure Tallinn In Finlandia Loro stanno resistendo Anche se sono loro Che hanno dichiarato guerra Quindi Vabbè E Ok Allora Qui vedo La possibilità Di un pocket Sa che abbiamo bisogno Di altre divisioni Di panzeria Stavo dicendo Ah 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 Ma di refuso No Di fanteria Ragazzi Molto banalmente Dai Tanto per chiudere i buchi Sostanzialmente Allora Qui stiamo Abbiamo sfondato Fatevi saccare Dai Fatevi saccare Maledetti Attacchiamo a Poznan Teniamoli occupati Mentre qui Continuiamo a scendere Discendiamo Hanno davvero Tante divisioni I polacchi C'è che Cosa che ci servivano Magari Paraclutisti Per prendere i punti vittoria La facevamo capitolare subito Possiamo pensarci Magari Per far capitolare Qualcuno Intanto Il colpo di stato Qui invece Sarà pronto negli anni 60 Quindi Mentre in Spagna Ho davvero bisogno Dell'alleato Franchista Diciamo Allora Qui Siamo riusciti a sfondare Eh no Ci stanno facendo ritirare Cazzo Forse Forse ci conviene Arrestare un attimo L'invasione Dov'è che hanno Superiore aerea Qui Qui Logicamente Vedete cosa facciamo Prendiamo Questi jet fighter Abbiamo qualche aeroporto Eh se non prendiamo L'aeroporto Questo aeroporto Qui è vitale Per noi Quindi cerchiamo Di prenderlo Ragazzi Se no Non abbiamo Raggio Per tenere La superiorità Aerea In quella zona Tomiche 19% Sentite Mettiamo Tutti i reattori Massima produzione Di reattori E magari Di infrastrutture Da riparare Ok Prima le infrastrutture Dei civili E poi Vanno i reattori Nei militari Per il momento Le teniamo un attimo A distanza Ok Quindi La mia possibilità Di L'ho vista Ma hanno mandato In overrun Una divisione motorizzata Eh Questo È grave Perderla così Eh Quella divisione Grave davvero Cioè portoghesi Però venite a darmi la mano Venite al fronte Maledetti Venite al fronte Allora Modify government No Per il momento Ci riteniamo Questi Punti Con voi Sono tutti usati Per Per i landlisa Che ci stanno mandando I portoghesi Stanno venendo qui A difendere Benissimo Ragazzi Eh Si è un po' arrestata L'invasione Da quando non abbiamo più Le nucleari Si è un po' Un po' arrestata Cioè continuiamo a sfondare Solo A sud Più o meno Eh neanche Questa cos'è La Malesia Ok Cioè magari se Gli alleati Ci dessero una mano Un po' più Importante Ecco Dobbiamo Attaccare così A Praga Vediamo come va L'attacco Non tanto bene Ragazzi Non si riesce Non si riesce Ad andare oltre Qui Hanno davvero Troppa roba Potrebbe essere Una buona idea Fermarci Arrestare L'invasione E poi Ricominciare L'attacco Appena ci Riorganizziamo Quindi blocchiamo Tutti gli attacchi Difficile Ragazzi Difficile Una delle guerre Più difficili Ragazzi Perché siamo In netta inferiorità In netta inferiorità Numerica Mezzi Armamenti Equipaggiamento Tutto sotto Ragazzi Non so neanche Come abbiamo fatto Ad avanzare così tanto A dire il vero Ragazzi Anzintrat People Seit rajgruundung Isto Dari 43 Sunt Meila Anzintrat Vorfahren barbar Cuore Dari K records Anzintrat L'attacco Anzintrat E Come Nicar Anzintrat E L'attacco Anzintrat Anzintrat Ok lì però Ok quindi Le mie Panzer Division comunque le ho fatte bene A livello di template perché sono forti Dovremmo farcela Adesso comunque questa seconda fase Dell'offensiva Vedo che abbiamo fatto dei progressi Motorizzate bene dai Ci stiamo espandendo fino Varsavia Ok lì abbiamo vinto Abbiamo vinto anche questa battaglia Questa Potrebbe attaccare verso sud Sentite lanciamo un attacco Chiudiamo quelle E adesso cerchiamo di arrivare a Varsavia È il momento giusto per farlo Magari una parte invece va Rimane qua su A coprirci la ritirata Nel caso servisse Le nostre Panzer Division attaccano da questo lato Attaccano anche di qua Cercano di vincere in quella zona No ci hanno fatto ritirare No No non ci hanno fatto ritirare Stiamo vincendo all'Otz No Stiamo attaccando a nord Ok Va bene ci siamo Difficile Ce la facciamo Li chiudiamo queste Forse le chiudiamo ragazzi Facciamo una sacca assurda Perché Le chiudiamo sia di qua che di là Qui controattacca Tieni le ferme Dai 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 Quanto ci vuole Un giorno Eh troppo Troppo lente Eh adesso ci hanno chiuso quella Ci hanno chiuso un porto ragazzi Che succede? Perché così? Bomba atomica su Varsavia Grazie statunitensi Almeno un po' di supporto Ce lo date Ok proviamo questa rotta così Questo attacco Ok qui Cerchiamo adesso di riprenderci Quella divisione Mentre i portoghesi hanno vinto Bene dai Questa seconda fase Dell'offensiva Ce la stiamo Servirebbe Un'atomica sola Un'atomica sola Non avremmo dovuto Sprecarle prima Forse ne abbiamo Sparate fin troppe Ok L'ODS È difesa Da un vasto Assembramento Di sovietici Le mie truppe senza Organizzazione Non ce la fanno Qui però abbiamo chiuso Perfetto Dai Continuiamo almeno a nord Meno a prendere Quell'aeroporto Che abbiamo preso L'aeroporto Quindi sapete cosa facciamo Eh no Però me lo dà a zero Perché vuol dire Che è distrutto Quindi aspettiamo Un attimo A spostare Gli aeri Tempo che si ripara Ci serve tutto Quello Attacca qui Questa attacca a sud Sgominiamoli Ok Siamo arrivati ancora A Gdansk Allora Queste invece Le concentriamo Qui E attaccate da questo lato Prima del fiume Non oltrepassiamo Non oltrepassiamo il fiume Lodz Adesso sta andando bene Ok Allora Lodz stiamo vincendo Benissimo Però Poi penso che manchi Cracovia Quindi Andiamo a prendercela E avanziamo anche Da questo lato Minchia Stiamo proprio penetrando Come dei coltelli E la Polonia È l'agnello sacrificale Delle nostre Panzer Division Ma me la sto cavando Bene come Germania Se vi dico Che è la prima volta Che gioco Germania Ci credete È la prima volta Ho mai giocato Germania E Nurse of Iron E neanche Nurse of Iron 3 Avevo mai provato La Germania Andiamo a 4 Perché voglio vedere La capitolazione Della Polonia No Ci hanno saccato Dai Non possiamo farci saccare Così Vabbè Qui però adesso Ci riprendiamo Ok abbiamo vinto Loz E abbiamo ripreso Anche Le nostre divisioni Dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo Attacchiamo Nei punti In cui sono meno potenti 76% Verso Varsavia Verso Varsavia E qui ci sarebbe Cracovia Da conquistare Però è dietro il fiume Basterà Varsavia Hanno L'unità nazionale Parecchio alta Comunque loro Adesso L'abbiamo ridotto Non ha perso Un sacco di uomini Vediamo se hanno Zero di manpower Minchia C'hanno ancora Un milione di uomini Ma che Come fanno ad avere Un milione di uomini Ancora Attacchiamo Eh no Dietro al fiume Stoppate Stoppate Dietro al fiume Impossibile Prima Prima di attaccare Lì con tante Panzer Division Ok Adesso servirebbe Un'altra atomica Su Varsavia Anche se non basterebbe Cazzo Focus Aeroporti No Li hanno sfondato Però adesso Recuperiamo Panzer Division Dai Varsavia Ok Adesso È positiva La battaglia Abbiamo vinto Sì abbiamo preso Varsavia Va 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 Non me lo aspettavo Sono Hanno perso Tutto Il loro morale Diciamo Adesso rimane solo Cracovia Abbiamo qualche Panzer Division In zona Allora Prendiamole da qui Ok Queste le mandiamo No No Le mandiamo Qui Abbiamo bisogno Per vincere Che tanto Abbiamo mandato In overrun Un sacco Di divisioni Polacche Dai Avanziamo Su Ci manca solo Cracovia Ci manca solo Cracovia Ragazzi Poi mi sa che Sposteranno la capitale Qui però Dai Scusate il commento Che non è proprio Dei migliori Ma Vi dico che sto sudando In questo momento Cioè proprio Tanto è difficile Questa Questa guerra Altro che campagne Di merda Facili Avrei potuto fare Ma che cazzo Ma che fanno Come fanno Ad espandersi così Aspettiamo Qui non conviene Contraattaccare Lasciamoli pure Per penetrare E poi sarà più grande La nostra sacca Qui stiamo Vincendo Benissimo Dai Dai Ma le nostre Panzer division Penetrano Vero? Sì Sfondano proprio Ok Perfetto Perfetto 94 Qui vinciamo Vinciamo Però queste Questa Riallontaniamola Varsavio è sempre Saldamente In mano nostra Avremo bisogno Di altre divisioni Per vincere Ma Ok Dai Adesso Tutte le Panzer division Potrebbero Attaccare Cracovia E a breve Avremo anche La nostra Bomba atomica Su Attaccate tutti Facciamo Capitolare Sti polacchi E poi Potremo accedere Eh Agli altri Stati satelliti Sovietici Però saccheremo Tutte le divisioni Sovieti Che si trovano In questa zona No Si stanno difendendo Troppo bene Qui Teniamole qui Le Panzer division Che adesso 98% Abbiamo la testata Nucleare La testata Nucleare Della vittoria 98% Quanto ci vuole Quanto ci vuole Due giorni Due giorni Quindi Continuiamo a mandarle All'attacco Dai Poco meno Di Teniamolo pronto Teniamolo pronto Dai 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 Minchia che tempismo Ragazzi Proprio adesso Ci serviva Proprio adesso Ci serviva Ok Dai Ci serviva Proprio adesso Questa Questa testata Nucleare Hanno bombardato Hanno bombardato Nuclearmente Mosca Grazie americani Grazie americani Che ci date Supporto nucleare Ok Ok Certo che i polacchi Avevano creato Un perimetro Difensivo Bellissimo Ma non si aspettavano Le nostre dieci testate Nucleari Iniziali Cioè Manca solo Cracovia Dai Su che sfondiamo Su che abbiamo vinto Dai Sì Grande vittoria Per l'asse For the Asse Sì 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 Ragazzi Ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti Da me a dire Al prossimo video Ciao a tutti